Eccoci qui, ben ritrovati, rieccoci qui su Milanello, la casa di milanisti su YouTube Vi ricordo di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi qui numerosissimi, numerosi, numerosi, numerosi Vi chiedo come state, qual è il vostro sentimento, personalmente ho un mix di emozioni Molte sono negative, c'è anche la parte positiva ovviamente per il pareggio dell'Inter che non si può ignorare Però ecco, andiamo ad approfondire ovviamente il video che vi invito a condividere sui vostri social Una premessa, stiamo giocando male, lo abbiamo detto Siamo scarichi da un punto di vista mentale, lo abbiamo detto Da un punto di vista tattico siamo anche lì un po' fermi e dovremmo trovare qualche alternativa, lo abbiamo detto Da un punto di vista motivazionale è incredibile come sul più bello non si trovi quel guizzo in più Che dovrebbe quasi sorgere spontaneo Non abbiamo giocato bene, è un periodo in cui non stiamo giocando bene Stiamo raccogliendo poco perché stiamo seminando male Anche Mr. Pioli ha le sue responsabilità, i giocatori che scendono in campo ovviamente Ci mettiamo tutto, quindi è colpa nostra Dopodiché una cosa, perché leggo tanti messaggi, basta, non siamo da scudetto eccetera eccetera Vorrei dire a tutti, e poi andiamo nel vivo del video da non perdere Vorrei dire a tutti che lo scudetto qualcuno se lo porterà a casa Non mi sembra di vedere in questo momento una squadra da scudetto Non è neanche l'Inter una squadra da scudetto che non segna da 313 minuti in campionato Che ha fatto due punti sui 12 a disposizione nelle ultime 4 Anche il Napoli vedremo cosa farà con la Lazio Mi sembra che qualche punto per Stada lo stia lasciando E quindi basta, mettiamoci il cuore in pace No, io il cuore in pace non me lo metto Non me lo metto e le speranze le ho Purtroppo c'è sempre questa situazione del mangiarsi le mani Detto che però, pensate, un tifoso interista in questo momento Loro giocano sempre dopo Noi ci mangiamo le mani perché giochiamo prima Noi possiamo mettere pressione e non lo facciamo Loro giocano dopo le ultime due Sapendo il nostro risultato che abbiamo pareggiato E non vincono Quindi mettiamoci anche, non dicono i loro panni Ma dal loro punto di vista anche loro stanno lasciando molto E anche loro vivono un momento negativo Negativo per negativo si va avanti E si vede chi uscirà per primo dal momento negativo Attenzione ovviamente anche al Napoli La Juventus un po' di staccata però potrebbe rientrare Non dico nei giochi ma nelle speranze È un campeonato particolare Quindi prendiamocela con noi stessi Ma non solo E ora apro un capitolo a parte Quindi la premessa Non voglio essere frainteso Non stiamo giocando bene Siamo scarichi da un punto di vista fisico Mentale Lo stesso Paolo Maldini lo ha detto Dopodiché apriamo un capitolo a parte Perché se Paolo Maldini Va ai microfoni di MinanTV E Dice quello che ha detto Evidentemente è successo qualcosa di inaccettabile Finché lo dico io Vabbè ma se lo dice anche Paolo Maldini Che non ha mai protestato Allora siamo andati oltre Vi invito a condividere questo video Sui vostri social Allora Abbiamo giocato male Detto ho messo il paletto Adesso però c'è un altro capitolo È vero È vero Che con noi spesso ci sono esordienti Serra era non esordiente ma quasi Abbiamo avuto Marchetti Meritiamo da questo punto di vista Dai designatori un po' più di rispetto Lo ha detto Paolo Maldini Non lo dico io Ieri c'è stata una gestione dei cartellini pessima Su Leao è stata fatta una caccia all'uomo Ha rischiato di farsi male Si è fatto anche male Poi è rimasto in campo fortunatamente Ma quel fallaccio Che ci ha fatto tutti spaventare Non è stato neanche Non è stato neanche dato il giallo In quell'occasione Così che poi hanno continuato a fare falli Dopo un po' ancora Ternandes Poi ancora Leao Sempre da quella parte Gestione dei cartellini un po' problematica Non ci aggrappiamo a questo Non ci aggrappiamo neanche Al fallo di mano evidente Al limite All'85esimo Punizione lì Che può essere molto interessante Non ci aggrappiamo neanche a quello Paolo Maldini dice Lo input all'arbitro Perché a gestione dell'arbitro Si è giocato pochissimo Pensate Che E poi arriviamo ad un escalation Rimanete lì E condividetelo sui vostri social Se vi va ovviamente Però è importante Così ci facciamo sentire anche noi Pensate che Per una media di Gioco effettivo Sui 90 minuti In Serie A Di 61 Cioè Mediamente in Serie A Si gioca effettivamente 61 minuti a partita Ieri Il Milano ha giocato 45 minuti Cioè Milano e Udinese Hanno giocato 45 minuti Di Tempo effettivo Una media Bassissima Non si è giocato Cioè Un minuto su due Si stava fermi 45 minuti effettivi Su una media di 61 È Qualcosa di clamoroso Hanno iniziato dal primo minuto Loro a perdere tempo E Di fatto L'hanno fatto Più volte Ci mettevano tanto tempo A rimettere il gioco Cioè Gli è stato concesso di tutto 45 minuti su 61 È Pochissimo Ci sono due fatti Uno è clamoroso L'altro è clamoroso Andiamo prima su quello più eclatante Del quali tutti parano Però ce n'è un altro che secondo me è altrettanto clamoroso In epoca Di VAR Un gol di braccio convalidato È qualcosa di più unico Che raro Nell'epoca della tecnologia C'è il filmato Ci sono diverse inquadrature Convalido un gol Di mano Qualcosa di più unico Che raro Qualcosa di storico Purtroppo Perché Con l'introduzione della VAR Siamo entrati in una nuova era In questa nuova era È qualcosa di storico E colpisce il Milan Qualcosa di inaccettabile Perché In questo caso è il VAR Perché guida Non vede bene le immagini Come fa a non vedere Perché non sta lì un po' di più Perché c'è fretta di Perché 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 Ma poi Se hai un minimo di dubbio Vedi il giocatore che manco esulta Che dice Il compagno è però Che guarda là Che manco esulta Ma di che cosa stiamo parlando Perché non controllare bene Prendersi 30 secondi in più Un minuto in più Se c'è il dubbio Perché non va lì anche l'arbitro Perché l'arbitro È un esordiente E come gerarchia Sicuramente Sottoguida Ma perché mettiamo L'arbitro allora esordiente È qualcosa Di inaccettabile Nell'epoca Del VAR Eh no È una contraddizione in essere Potevi accettarlo prima Il braccio di Adriano Nel derbit Vi ricordate Altre situazioni Non si può accettare Nell'epoca del VAR Mi spiace Ma non si può accettare È qualcosa di Clamoroso È Uno scandalo Chiamiamolo per quello che è Guardiamoci negli occhi È uno scandalo Senza se E senza ma Senza attenuanti Senza giustificazioni Perché Alissone Col VAR Non le immagini E non si possono Ignorare certe cose Convalidare un gol Di braccio Nel 2022 Col VAR Voglio dire un'altra cosa Poi Ripeto Dieci anni dopo Muntari Festeggiamo Con Un braccio di mano Nell'epoca del VAR Dieci anni dopo Il signor Buffon Che dice Se l'avesse visto Come se non se ne era accorto Se me ne fossi accorto Non avrei detto all'arbitro Dieci anni dopo Siamo passati a Udog Che dice Mi è andata bene Cioè qui Un secondo dopo Udog Parla nei microfoni L'intervistatrice Dice Ma Non è che non hai esultato Perché l'hai presa di braccio Cioè si è accorta L'intervistatrice Non si è accorto L'arbitro Non si è accorto Chi è il VAR E il giocatore che dice Eh sì Mi è andata bene Ma vi rendete conto Abbiamo giocato male Però in questo Ha ragione Pioli Ci stanno partite Che si possono vincere Pur giocando male Quello è un gol Di braccio Ma c'è un'altra cosa Che mi fa imbestialire Ed è incredibile Primo tempo Minuto 17 Recuperiamo palla Subiamo fallo Recuperiamo palla Imbucata subito Per Messias Contropiede Tre quarti Sulla destra Messias Che è in vantaggio Sull'uomo che rincorre Messias è velocissimo In mezzo Poi ci sono Leao Un altro giocatore Leao sicuramente Più veloce Di quel giocatore Due contro due Tre quarti Con Messias Che è involato In avanti Rispetto al giocatore Zegeler Credo fosse E che va Verso l'area Fischiato Non viene dato Il vantaggio Ragazzi Ragazzi Questo è passato Quasi inosservato Ma è un altro Episodio Grave Dovuto A un arbitro Che non è nelle condizioni Di arbitrare serenamente In un In un teatro Come San Siro Pieno di gente Una partita importante Con la prima squadra E perché ci hanno mandato lui Ragazzi Lì siamo due contro due Con Messias Che è in avanti E c'è Leao Cioè lì Molto probabilmente Nesce qualcosa Di molto pericoloso Non voglio dire il gol Perché non so Come si può sviluppare Ma sicuramente Un'azione molto pericolosa Due contro due L'uomo è in vantaggio Messias È in vantaggio qui Ecco Questa è la metà campo Messias è qui Il difendente dell'Udinese È qui Lui va verso In mezzo poi ci sono Leao E un altro giocatore Come si fa Fischiare Ma sempre con noi Queste cose Sempre Con Noi È Uno scandalo Lo chiamo per quello che è Mi fa Imbufalire Mi fa Imbufalire Perché Anche all'Inter È capitato di vincere Partite non meritando Ieri poteva essere La nostra occasione E invece Nell'epoca del VAR Della tecnologia Della moviola in campo Viene Viene Convalidato Un gol Di braccio Non vuole essere Un gestaccio Anche se mi piacerebbe farlo Scherzi a parte ragazzi È qualcosa di incredibile Ripeto Gestione dei cartellini Tempo effettivo 45 contro una media Di 61 È Clamoroso Farlo di mano al limite Può capitare Non vederlo L'abbiamo visto tutti Ma Il gol di braccio E quel vantaggio lì Ragazzi Sono cose che Non riesco ad accettare Mi fanno Imbestialire Sono furibondo Ovviamente Anche con la squadra Ne parleremo Ci sarà modo e tempo Però questo è un aspetto Che non può passare Inosservato Sempre E solo al Milan Sempre E solo Al Milan Ma andremo oltre Su questo filone Arbitrale Andremo oltre Cioè Proseguiremo su questo aspetto Proseguiremo anche sull'aspetto Ovviamente tecnico Tattico Ma parto da qui O meglio Questa mattina ho dato le pagelle Ho dato tante insufficienze Anche a Pioli Ho dato 5 Qualcosa che è successo ieri È di incredibile È È scandaloso È uno scandalo Condividete questo video Sui vostri social Si alza la voce pure Paolo Maldini Evidentemente Si è andati oltre Purtroppo Lasciate un like Se la pensate come me Iscrivetevi Numerosissimi Attivate la campanella E vi invito a Condividere questo video Sui vostri social Perché diventi virale Perché arrivi a tutti Perché si faccia capire Che il Milan È stato penalizzato Anche se ha giocato male È stato penalizzato In maniera clamorosa Mi raccomando È stato penalizzato È stato penalizzato